ecco per voi le previsioni di domani dalle prime ore del mattino nuvolosità diffusa e nebbia in tutte le province durante il giorno saranno possibili precipitazioni a carattere locale nelle ore serali le condizioni permarranno invariate le minime della notte previste saranno comprese tra 0 e 2 gradi durante il giorno le massime previste saranno comprese tra 3 e 6 gradi non 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 non